Nel nulla della sera una questione s'approssima alla mente. Qual è il senso dell'essenza, dell'esistenza? Qual è il senso, dimmi, dell'inesorabile scorrere del tempo, scandito ora per ora da tristi orologi, al cesio, al quadro, meridiane. Ci trasciniamo nel fumo fallace del ghiaccio secco, camminando sempre sul barato, il barato del tempo, tempo orologico. Qual è il senso di questo trascinarci nello scorrere continuo dell'esistenza? Vediamo.